Una grande manifestazione dei fori imperiali salva i ciclisti. Ieri a Mentana e dintorni si è infatti tenuto la prima edizione della Gran Fondo di Ciclismo La Garibaldina, oltre 700 i partecipanti. Vediamo come è andata. Una grande festa di sport. Così si può definire la prima edizione del Gran Femio Città di Mentana La Garibaldina, Memorial Arnaldo Ciccolini, a cui hanno partecipato oltre 750 ciclisti. Ospite d'onore della Do Giorni Mentanese, patrocinata dalla provincia di Roma e dalla locale amministrazione comunale Francesco Moser, che ha partecipato alla gara e premiato i vincitori. A trionfare nella Gran Fondo di 135 km è stato Davide Toro Santucci, che ha tagliato il traguardo solitario con oltre due minuti di vantaggio sugli inseguitori. Nel percorso corto di 110 km si è invece imposto Matteo Cecconi. Tra le donne, Vittoria di Elena Cairo e Roberta Galvani. La gara ha attraversato 14 comuni delle province di Roma e Rieti e ha visto una forte partecipazione di pubblico attratto anche dalle numerose iniziative culturali ed enogastronomiche.